Carissimi conazionali, è un vero piacere per me salutarvi in questo 76esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Vi porgo i miei più calorosi auguri per la festa nazionale del 2 giugno. Oggi, più che mai, dobbiamo essere uniti, considerando la problematica risultante dell'emergenza sanitaria, la guerra e la situazione politica del Perù. Ma siamo fiduciosi che lavorando assieme saremo capaci di uscire di questa situazione. In questo giorno speciale ci sentiamo orgogliosi delle nostre radici, ricordando lo straordinario patrimonio culturale ricevuto attraverso la storia della nostra grande nazione. Viva l'Italia, vive il Perù! Grazie a tutti! Grazie a tutti!